vicenza è ordinata coi suoi palazzi belli affacciati attorno a un asse principale e incontra che partono dai lati con negozi e assaggi di salite e discese brevi sulla piazza centrale il bianco edificio qui famoso una sposa elegante nel suo abito pieno e rigoroso per capire il posto sali il monte lungo il candido porticato fino al piazzale da cui lo sguardo immediatamente sabre e vedi tetti altane campanili torri e la carena di una nave pare un mazzolino di fiori coccoli di piracanta intorno stretto da molto verde di varietà diverse sfumature intense è un mazzetto serio morbido e grazioso all'occorrenza molto chiuso poi ti attendono laggiù in relativa lontananza l'alto piano e le montagne vere è un angolo di mondo questo senza il caos della grande città dove un po di calma e pace trovi bene per dar voce a una semplice tranquillità